Il mondo del fai da te è pieno di sfide e soddisfazioni e uno degli aspetti più importanti nella lavorazione del legno è sapere come scegliere e utilizzare correttamente lo stucco. Oggi esploriamo i diversi tipi di stucco per legno disponibili sul mercato, le loro caratteristiche principali e come utilizzarli per ottenere risultati professionali. Lo stucco per legno è un materiale essenziale per chiunque lavori con il legno, sia a livello professionale che amatoriale. Esistono vari tipi di stucco, ciascuno con le proprie caratteristiche specifiche che lo rendono adatto a diverse applicazioni. Il tipo più comune è lo stucco in pasta, che viene venduto già pronto all'uso e può essere facilmente applicato con una spatola. Questo tipo di stucco è ideale per riparare piccole crepe e fori superficiali. Un altro tipo molto utilizzato è lo stucco in polvere, che deve essere miscelato con acqua prima dell'uso. Si tratta di un prodotto specifico per legno, realizzato con colle animali e vegetali. Questo tipo di stucco è perfetto per le riparazioni più grandi e profondi, poiché offre una maggiore capacità di riempimento e ha una resistenza superiore una volta asciutto. Può essere tinto sia con coloranti a base di acqua che con quelli all'alcol. Questo stucco è facile da carteggiare. Non intasa la carta abrasiva, non si ritira e non si screpola. Inoltre esistono stucchi bicomponenti, composti da una base e un catalizzatore che garantiscono una solidità e una dura eccezionali, rendendoli adatti per lavori di restauro e riparazioni strutturali. Stuccare il legno è un'operazione relativamente semplice, ma richiede un po' di pratica per ottenere un risultato perfetto. Ecco una semplice guida passo passo in 5 step su come procedere. 1. Preparazione della superficie Prima di tutto assicurati che la superficie del legno sia pulita e priva di polvere o residui. Usa una carta vetrata per allevigare leggermente l'area da riparare. 2. Applicazione dello stucco Prendi una piccola quantità di stucco con una spatola e applicalo sulla zona danneggiata. Distribuisce uniformemente assicurandoti di riempire completamente crepe e fori. 3. Asciugatura Lascia asciugare lo stucco per il tempo indicato sull'istruzione del prodotto. Questo può variare da alcune ore a un'intera giornata, a seconda del tipo di stucco utilizzato e dalle condizioni ambientali. 4. Levigatura Una volta che lo stucco è completamente asciutto, usa una carta vetrata a grana fine per levigare la superficie fino a renderla liscia e uniforme. 5. Finitura Dopo aver levigato, la superficie è pronta per essere verniciata, laccata o trattata con il prodotto che preferisci per completare il tuo progetto. Utilizzare lo stucco giusto e applicarlo correttamente offre numerosi vantaggi. Innanzitutto permette di riparare danni superficiali e profondi in un modo duraturo, prolungando la vita dei tuoi manufatti in legno. Inoltre, una superficie ben stuccata e levigata migliora l'aspetto estetico del legno, rendendo invisibili le riparazioni e conferendo un aspetto professionale al lavoro finito. Insomma, che tu sia un esperto a falegname o un appassionato di fai-da-te, conoscere diversi tipi di stucco per legno e saperli utilizzare correttamente è fondamentale per ottenere risultati di alta qualità. Ogni tipo di stucco ha le sue peculiarità e scegliere quello giusto per ogni specifica esigenza può fare la differenza tra un lavoro mediocre ed un eccellente.